In occasione del 29 settembre, giornata mondiale del migrante e del rifugiato, partirà a Fano la 22esima edizione della settimana africana regionale, in programma fino al prossimo 5 ottobre, promossa dall'associazione Africa Chiamahollus, che opera da anni per accendere i riflettori sul continente e restituire ai bambini africani la loro infanzia. La settimana africana regionale si prefigge lo scopo di accendere i riflettori sul continente africano, un continente molto dimenticato ed anche molto oppresso. Il secondo scopo di questa settimana è anche illustrare e far conoscere i progetti umanitari che l'Africa Chiamah sta portando avanti da 18 anni in Kenya, Tanzania e Zambia, a favore di 22.000 bambini, ragazzi vulnerabili e in grave difficoltà. Il programma della settimana si arricchirà di spettacoli, musica, cinema, laboratori, sport e convegni e importanti testimonianze. La settimana africana prenderà il via domenica 29 settembre con un'iniziativa che abbiamo organizzato in collaborazione con l'ufficio pastorale Migrantes. L'appuntamento sarà alle ore 19 presso la tensostruttura della Sassonia, dove faremo un momento di preghiera interreligioso. Seguirà una cena condivisa, sarà una cena di una famiglia allargata, così ci piace definirlo, e seguirà un concerto dal titolo Ami Navigante, che è stato ideato e creato da Anissa Guisi, che è una cantautrice del nostro territorio italo-algerina. Seguirà con vari eventi e iniziative durante tutta la settimana. Avremo in particolare alcuni appuntamenti con autori e scrittori presso la Mediatica Montanari. In particolar modo saranno tre. Martedì 1 ottobre l'incontro con il giornalista di Avvenire Italo Zanini, che presenterà il suo ultimo libro su Bachita, la prima santa africana. Poi un altro incontro con l'autore sarà il 3 ottobre Duccio Facchini, che presenterà il suo libro Alla deriva, sulla questione dei salvataggi delle ONG in mare. E infine l'ultimo incontro con l'autore sarà invece venerdì 4 ottobre con Cossi Comlaibri, che è il principale esponente della scrittura migrante in Italia. L'incontro di mercoledì 2 ottobre, nel quale abbiamo deciso di dedicare un pomeriggio alla figura di Kapuscinski. Ci vedremo prima alla sala da tè per un reading di alcuni brani di questo scrittore. E poi alle 18.30 al Cinema Politeama proietteremo il film ancora un giorno. La manifestazione si concluderà come sempre con una festa finale, che inizierà quest'anno con un'anteprima venerdì 4 ottobre, dove avremo come ospite Devon Miles insieme a Paccio DJ nei giardini di Piazza Miani. E poi proseguirà sabato 5 ottobre. Ci ritroveremo all'arco d'augusto alle ore 16, da cui partirà un corteo che arriverà fino ai giardini di Piazza Miani. Grazie. 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 Grazie.